Arresto in carcere per Giovanni Lupino e le motivazioni. Perquisizione a tappeto anche nelle proprietà di un avvocato radiato dall'ordine. Dopo il padrino, nel primo covo, anche il ritratto di Joker. Dopo la locandina del film Il Padrino, con la foto di Vito Corleone e Marlon Brando, nel primo covo di Matteo Messina Denaro, in evicolo San Vito IV a Campobello di Mazzara, è stato trovato anche un quadro a colori che ritrae il Joker, interpretato da Joaquin Phoenix, che vinse l'Oscar, e sotto una scritta «C'è sempre una via d'uscita, ma se non la trovi, sfonda tutto». Messina Denaro è stato sottoposto al primo ciclo di chemioterapia nella stanza clinica appositamente allestita, a pochi metri dalla sua cella, nel carcere dell'Aquila. Non vi sono state reazioni collaterali? Nel frattempo si susseguono a tappeto le perquisizioni a Campobello di Mazzara e non solo. In particolare è stata sottoposta a controllo l'abitazione dell'ex avvocato Antonio Messina, 74 anni, radiato dall'ordine e condannato per traffico di droga negli anni 90. La casa di Messina a Campobello di Mazzara, in via Selinunte, innanzi alla casa di Salvatore Messina Denaro, fratello del boss, già perquisita lunedì scorso. E poi altre ispezioni nell'abitazione estiva dell'ex avvocato a Torretta Granitola sul litorale di Mazzara del Vallo e in un altro immobile in via Galileo Galilei a Campobello di Mazzara. Ancora nel frattempo il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, Fabio Pilato, dopo aver convalidato l'arresto, ha firmato l'ordinanza di custodia catolare in carcere. A carico di Giovanni Lupino, 59 anni, il commerciante di Olive, la nocellara del Belice, di Campobello di Mazzara, che lunedì 16 gennaio ha accompagnato in automobile, una Fiat Bravo, Matteo Messina Denaro alla clinica palermitana La Maddalena. Tra le motivazioni del provvedimento, il giudice Pilato ha scritto, ricorre il pericolo di fuga, in quanto l'essere a stretto contatto con un soggetto in grado di mantenere lo stato di latitanza per ben 30 anni, postula. La conoscenza anche della rete creata per sfuggire alla giustizia, di cui Lupino stesso potrebbe avvalersi per darsi alla macchia. Ricorre la necessità della speciale prevenzione perché l'elevata gravità dei reati, le modalità e le circostanze del fatto, unitamente ai precedenti penali risultanti dal certificato, esprimono una spiccata pericolosità sociale, soprattutto perché l'essere considerata persona di fiducia da un capo mafia del calibro di Messina Denaro proietta automaticamente l'indagato in una posizione di alta considerazione e rispettabilità, secondo i codici interni, all'associazione mafiosa. Trattandosi di un soggetto a stretto contatto con il noto latitante, può senz'altro presumersi che egli sia custode di segreti e prove, che farebbe certamente sparire se lasciato libero. Ma al di là di ogni considerazione logica, sono le risultanze investigative a fornire il dato decisivo. Nella misura in cui il possesso da parte di Lupino di un coltello a serramanico della lunghezza di 18,5 cm e di due cellulari, entrambi tenuti spenti ed in modalità aereo, suggeriscono che Lupino fosse talmente consapevole dell'identità di Messina Denaro da camminare armato e ricorrere ad un contegno di massima sicurezza per evitare possibili tracciamenti telefonici. Al momento dell'arresto, Giovanni Lupino aveva in tasca anche dei pizzini, una lunghissima serie di biglietti e fogli manoscritti, con numeri di telefono, nominativi e appunti di vario genere, dal contenuto scuro e di estremo interesse investigativo. Nessun'altra misura all'infuori del carcere è dunque idonea a contenere le esigenze cautelari, ivi compresa la meno afflittiva degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, che lascerebbe comunque a Lupino uno spazio eccessivo di movimento. E poi il giudice Pilato, in riferimento a quanto dichiarato a difesa da Lupino, scrive «Lupino ha dichiarato di ignorare la vera identità di Messina Denaro, specificando che circa sei mesi addietro il suo idraulico di fiducia, Andrea Bonafede, glielo aveva presentato indicandolo come un suo cognato, di nome Francesco. Dopo quel brevissimo incontro, durato appena una manciata di minuti, non l'aveva più visto né incrociato, fino alla mattina del 16 gennaio, quando il tale Francesco, sedicente cognato di Andrea Bonafede, si era presentato all'alba, ore 5.45 del mattino, per chiedergli la cortesia di accompagnarlo a Palermo, dovendo sottoporsi a delle cure mediche in quanto malato di cancro. Lupino ha concluso le sue dichiarazioni, sostenendo di essersi reso conto della vera identità di Messina Denaro soltanto a seguito dell'intervento dei carabinieri, quando aveva chiesto al tale Francesco se cercassero lui, ottenendo in risposta le testuali parole. Sì, è finita!